Di amore si vive, non si muore. Un pensiero scritto su una panchina ed una lezione da imparare fin da piccoli, sui banchi di scuola. È quello che hanno fatto gli alunni delle classi quinte del primo circolo didattico Oberdan di Andria, protagonisti di un'iniziativa organizzata questa mattina, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il loro messaggio lo hanno lanciato dai gradini dell'istituto, da dove hanno intonato canzoni e letto frasi d'amore contro la violenza, parole da grandi pronunciate con la tenerezza dei bambini. Abbiamo conversato tanto, abbiamo presentato il problema e abbiamo dato libertà a loro di cercare, visto che sono super tecnologici, frasi da, diciamo esporre più che altro, ma di sentire proprie e i bambini ci hanno seguiti. Abbiamo esordito con questa bella canzone di Alex Britti, perché è molto molto calzante anche la canzone, e anche altri colleghi ci siamo orientati in questa maniera, palloncini rossi, messaggi da lasciare a tutti, dopo averli declamati, da lasciare a tutti, in consegna a tutto il mondo, sarebbe bello da dire, almeno a tanti uomini. L'iniziativa, che ha coinvolto anche il plesso Don Tonino Bello, fa parte di un progetto nazionale che ha lo scopo di sensibilizzare al tema della violenza sulle donne e di tendere una mano alle vittime, invitandole a chiedere aiuto. Questo è un progetto dal titolo La parola alla panchina, consiste nel posizionare una panchina rossa ben visibile con una frase, quindi un messaggio, ma soprattutto con l'indicazione del numero del centro antiviolenza, 1522, perché è proprio difficile a volte avere la consapevolezza per le donne di essere vittima di violenza non solo fisica, che è quella magari più evidente, ma violenza psicologica. E allora nei due plessi abbiamo voluto posizionare queste due panchine, che terremo sempre fissi, perché quando si spegneranno i riflettori di questa giornata, deve ricordare a tutti quanti, ma soprattutto anche alle donne vittime di violenza, di acquisire questa consapevolezza e in maniera privata, personale, telefonare al centro antiviolenza, dove troveranno sicuramente persone che, oltre a far acquisire loro la consapevolezza, potranno dargli dei mezzi, degli strumenti, la forza anche per reagire, prima che sia troppo tardi.